Grazie al vostro affetto le visualizzazioni sul canale di Sfizi di Calabria continuano a crescere. Pensate che abbiamo da poco superato soltanto i 50 milioni. Di questo vi ringrazio enormemente. E quando faccio le mie analisi, le mie ricerche per capire quali sono i contenuti che più vi piacciono, alla fine i dati convergono sempre verso la stessa direzione. I video che più vi sono piaciuti sono quelle delle nostre scampagnate fatte all'aria aperta. Secondo me la motivazione non è soltanto per l'enorme quantità di cibo che prepariamo tutto al momento in quelle occasioni, ma è anche perché vi ricordate magari quando facevate le scampagnate da bambini, è proprio la bellezza dello stare insieme in queste occasioni. Ma a proposito di scampagnate, circa un mesetto fa mi telefona un mio fan che si chiama Carlo. Carlo insieme a un altro gruppo di miei fan mi fa una richiesta molto particolare. E secondo voi l'ho accettata? Lo scoprirete nel video. E guardatelo fino alla fine, voglio i vostri commenti. Buona visione! Ed eccoci qua, di buon mattino abbiamo già scaricato tutto l'occorrente per questa mega scampagnata di oggi 20 ottobre 2023. La cucina da campo è allestita, qui si stanno già lavando i nostri peperoni. Tutto quello che mangeremo oggi è raccolto dal nostro orto e credetemi gustarlo in questa location, accanto al fiume, sarà tutto ancora più buono. Oltre ai peperoni, qui già si sta preparando il pomodoro pelato che servirà per fare il sugo, si stanno lavando anche le patate che ci serviranno per farle poi fritte e arrivano gli ospiti direttamente dalla Puglia. Il minibus capitanato da Carlo è arrivato e sono felice di conoscerlo. Ehi Carlo, scendi! Non capiti cosa faccio? Non mi piace di me! Che hai fatto la permanente Carlo? Benvenuto! Ciao Luca, grazie! Benvenuti, benvenuti! Buongiorno! 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 Prego, accomodatevi! E dopo le presentazioni e gli onori di casa, faccio accomodare gli ospiti. Ciao Gianluca! Ciao! Ciao, benvenuti, benvenuti! Grazie! Buongiorno a tutti! E una delle priorità delle scampagnate che organizziamo, anzi se non avete visto le precedenti vi invito a farlo e le troverete nei video passati, è quello di cucinare quasi tutto al momento. E forse è proprio questo l'aspetto che rende uniche le nostre scampagnate e ci dà il piacere nello stare insieme. Grazie, guarda! Mai visto una cosa del genere? Grazie Gianluca! Grazie! E mai fatto avanti e dietro! Ti ringrazio! Ma che simpaticoni che sono! Allora io mi sto occupando della preparazione del primo piatto, queste sono le melanzane che abbiamo prima sbucciato e i cuori li stiamo soffriggendo per poi buttarli in questo delizioso sughetto. Ma me la schiacci tu il papadoro, Carlo? Nessuno! Sei dovuto arrivare tu da Lecce che non lo sapevate! Voi non lo sapevate! Vedi che qualcosa ho fatto, ho portato qualcosa! Poi io nella cucina sono speciale! Sì? Qual è la tua specialità? Qual è la tua specialità in cucina? La carne di cavallo! La carne di cavallo! È una vostra specialità? Sì! La carne di cavallo, guarda! I pezzetti di cavallo! I pezzetti di cavallo! Fermo! Allora tu! Oggi io sono in ferie! Ho i migliori chef del Salento! Hai visto? Guarda, guarda, guarda! E per una scampagnata di successo tutti devono darsi da fare! Schiaccia pure tu, dai! Vediamo come schiacci! Ci vediamo, dai! Come gli do i pomodori? Dai, eccoli! Dai! Che bello! Poi quando schiaccia una donna... Quando finite voglio prendo un cucchiaio e l'assaggio, vediamo com'è! E credetemi cari amici, ci siamo divertiti davvero un casino! È stata una giornata che rimarrà impressa nei ricordi di tutti! Perché voi giustamente vedrete soltanto un riassunto di una diecina di minuti! Però noi invece abbiamo passato delle ore spensierate tutti insieme a ridere, scherzare, cucinare, confrontarsi, raccontarsi cose belle e anche magari cose di vita vissuta del quotidiano! Ed è stato davvero memorabile! Intanto memorabile è anche questo sughetto, credo, fatto con carne macinata di suino nero, olio extravergine di oliva, poi ho fatto soffriggere per bene la cipolla e un paio di spicchi d'aglio, ho messo un po' di origano selvatico di montagna e adesso vado a buttarci le melanzane, i cuori di melanzane che sono state leggermente soffritte. Ma mi accorgo che una persona si è allontanata! Signora, cosa sta facendo di bello? L'ho beccata! E facciamole vedere queste cicorie come sono! I giovani non li conoscono! Aspetta! I giovani non li conoscono! È come una ricetta con la cicoria! Avvicinate, avvicinate che qua ce l'ho staccionata e non posso passare! Queste sono le cicorie! Le raccolgo, le mettono con l'acqua in bicarbonato! Poi? Le lascio in bagno, per un poco! Poi dopo che sta nel bagno, le cucini, te le mangi? E te le mangi! Te le faccio con le olive saltate! Allora verrà una ricetta calabro pugliese! Eh, fai se faccio l'olio fumato! Queste già le esse però! Ok! E metti le olive! Un po' di peperoncino? Un po' di peperoncino! Che ci vuole! E chi lo vuole! Però le ci vuole e ci vuole! Ok, grazie della ricetta! Dobbiamo fare una bella foto, stiamo insieme! Ok! E avete visto quanta saggezza nelle donne di un tempo? C'è sempre tanto da imparare! Mi raccomando, spremete le persone anziane che vi stanno accanto e assorbite tutti i loro saperi che sono preziosi i doni! E mentre si prepara la pasta si pensa già ad accentere la pietra e pulirla a dovere per la preparazione della carne! E ai nostri amici oggi abbiamo pensato, con il mio gruppo, di fargli assaggiare una bella arista di maiale fatta a modo nostro. Abbiamo preso dei rametti di rosmarino, qualche foglia di salvia, poi la mariniamo insieme a del origano sempre selvatico di montagna, qualche spicchio d'aglio, insomma la lasciamo a riposare per un po' prima di metterla sulla pietra rovente, perché ha bisogno di una cottura docile e lunga e poi questa sarà davvero un burro, davvero una specialità e ci tenevo a farla assaggiare ai nostri amici pugliesi. Aggiungiamo ancora un po' di olio extravergine di oliva di prima scelta, la massaggiamo per bene in modo che tutti questi aromi vengano assorbiti dalla carne e poi la adagiamo dolcemente su questa bella pietra rovente e fa pure rima. Così nel frattempo che terminiamo la cottura della pasta, mangiamo il primo piatto, questa piano piano continua a cuocere, perché ancora le cose da mangiare non è che sono finite qua, sono tante! Noi ci piace preparare tante cose e fare assaggiare la vera cucina casereccia calabrese in uno stile casalingo. E ditemi voi che cosa viene sempre di questo suono, procede o non procede bene, secondo voi li soddisferemo questi amici? Il sugo borbotta e vai con questi 4 chili a valanga, caliamo la pasta nel mio mega padellone e poi non ci resta che aspettare la fine cottura per gustarci finalmente questo primo piatto. E dopo circa un 20 minuti di cottura nella stessa padella del sugo, ecco la pasta meravigliosamente pronta, guardate qui che crema, guardate che squisitezza, che densità, che cremosità, tutta questa preparata davvero con grande cuore, con grande passione per Carlo e tutti gli altri amici. E oltre che la pasta, sapete cosa aspettavano? Grazie a tutti, benvenuti in Calabria, dalla Puglia alla Calabria, questo è turismo! Lecce, Lecce, Lecce! Ragazzi non potete capire l'emozione, ma come potevo ripagarli di tutto l'affetto che mi mostravano, hanno fatto più di 4 ore di Pullman per venire a trovarmi e per fare un amme insieme a me e per ricordarsi della bellissima armonia che si crea nelle vere scampagnate. Allora ci ho provato con polpette di melanzane, parmigiana, melanzane a filetti, pomodori secchi, funghetti misti sott'olio, olive schiacciate, fresche fresche, leggermente piccanti, tutto di sfizzi di Calabria e poi distese, distese di salumi. Ecco il nostro capocollo, da questa parte le bruschette fatte come si deve, pane casereccio, strofinatina di aglio e poi del pomodoro serio condito con abbondante olio extravergine di oliva e origano di montagna. E questa è la salsiccia di sfizzi di Calabria, bisogno di presentazione, parla da solo, guardate che colore, ma il momento della carne, il profumo inebriante si avvicina. E allora su un bel tagliere di sughero inviato dalla Sardegna, dalla mia amica Ignazia che ringrazio e ricordo sempre con affetto, abbiamo adagiato una bella distesa di rucola fresca con una spolveratina di sale e dell'olio extravergine di oliva, andiamo ad affettare ed adagiare sopra la carne che in pratica è un burro, non è più carne, è burro, si scioglie tra le mani. E siccome nelle scampagnate di sfizzi di Calabria tutto è possibile, riusciamo anche ad affettare con un'affettatrice elettrica sulla sponda di un fiume. Ma oltre il cibo, volete sapere veramente che cosa c'è stato di così bello in questa giornata? E il bello è conoscersi da vicino, stringersi la mano e mentre ogni giorno ci abbracciamo con l'innovazione, con il progresso, non possiamo fare a meno di notare che alcune delle preziosi tradizioni e valori del passato stanno sfumando lentamente. Sarà per i ritmi frenetici della vita moderna, spesso ci distraggono dalla bellezza delle piccole cose, dall'importanza delle cose semplici della vita quotidiana. Applauso a Pino! Applauso a Pino! E come avete potuto immaginare, anche con la carne è stata un successo. Dopo averla adagiata sul letto di rucola, l'abbiamo cosparsa di pomodorini conditi e poi una bella grattata di scaglie di parmigiano e poi un filo di glassa di aceto balsamico. Con la cottura lenta sulla pietra è rimasta morbidissima, poi non l'abbiamo bucata in modo che tutti i succhi sono rimasti all'interno e le fette sono diventate super tenere. Ma non poteva mancare anche la salsiccia fresca calabrese, sempre fatta sulla piastra, e poi i nostri peperoni nostrani che sono fritti qui di fianco alla pietra. Ma non sono soltanto fritti, sono anche imbottiti di filetto di pomodoro condito. Li avete mai assaggiati in questo modo? Fatemelo sapere nei commenti, perché oltre a farcirli con il pomodoro si possono fare anche con i filetti di acciuga, con la carne, i peperoni ragazzi come li fate fate sono buoni, soprattutto se sono belli del vostro orto. E poi abbiamo il nostro frigo, sempre a portata di mano, dal quale andiamo ad attingere una bella cassetta di frutta. Quale frutta? Una bella cassetta di uva, freschissima, fresca di fiume ovviamente. Eccola qui e andiamo a preparare un mega tagliere di frutta. Diciamo che non vi ho fatto vedere tutte le altre cose che abbiamo mangiato, perché sono davvero tante. Qui ancora ci sono i meloni gialli che si fanno proprio nel periodo, si mangiano proprio nel periodo invernale e ancora il 20 ottobre mangiamo un'anguria gigantesca. E allora volevo sapere da voi cosa ve ne è sembrato di questa bellissima giornata. La parte finale del video volutamente non la inserirò, perché è davvero ricca di emozioni. Con Carlo ci siamo stretti forte la mano, ci siamo parlati e alla fine vi dico soltanto che si è messo a piangere, pianto di gioia ovviamente. E questa per me è un'emozione che, permettetemelo, voglio tenermela per me. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, fatemi leggere i vostri commenti e vi do appuntamento alla prossima. Questa è la Calabria, questa è la mia Calabria. Un bacio a voi. Grazie a tutti.